Modus operandi abbastanza noto, un'auto usata come una riete o il classico piede di porco. In diversi casi, specie negli stabilimenti balneari, è sufficiente anche un taglierino per creare un varco dalla copertura delle tende di plastica da esterno. Nelle ultime settimane a Pescara e dintorni almeno una decina di colpi del genere. La settimana scorsa al Caffè Caffè di Montesilvano, due notti fa alla Petit Caffè sulla Tiburtina. In questo caso, con l'ausilio delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, i titolari sono riusciti anche a individuare il responsabile il giorno seguente e dopo un breve inseguimento farlo bloccare da una pattuglia di carabinieri nei pressi di una fermata dell'autobus. Ma dopo l'identificazione di Rito, l'uomo, un noto tossicodipendente della zona, è stato lasciato libero. Nonostante un furto di quasi 1.500 euro e danni al locale per circa 3.000 euro. Stesso discorso su lungomare, con la ripresa delle attività in numerosi stabilimenti balneari, tornano a colpire nella notte i soliti balordi. Hanno già, per così dire, marcato visita i ristoranti Bacone, Shanghai e gli stabilimenti Sole Luna, La Capanina, Palm Beach e Apollo. No, guarda, dico la verità, dopo l'ultima volta qualche giorno fa sono proprio disperato, oltre ad essere amareggiato e arrabbiato, perché non ne possiamo più, perché ci stanno portando all'esasperazione, a far giustizia, cosa che giustizia non ne possiamo fare perché altrimenti se noi ci rimettiamo pure le famiglie è tutto quello di bello che abbiamo costruito fino a ora. Ecco, l'ultimo colpo che cosa vi hanno portato via? L'ultimo colpo ci hanno tagliato due tende, hanno spaccato un vetro, hanno spaccato un infisso e si sono rubati alcune bottiglie di champagne e di spumante e poi una bici elettrica nuova di mio fratello e niente. E poi hanno creato panico, hanno buttato la cassa per terra e quant'altro. Un casino. Che cosa bisognerebbe fare? Un sistema di vigilanza? Voi avete piazzato le telecamere però non servono fino a un certo punto? Sì, lo stabilimento è tempestato di telecamere, solamente che non servono a nulla perché innanzitutto loro per entrare anche un bambino riesce ad entrare, poi purtroppo anche questa giustizia che non ti permette niente perché comunque la polizia, ma sicuramente loro sanno chi sono, purtroppo li mettono dentro e poi sappiamo come vanno le cose solo esclusivamente in Italia. Loro tra una settimana escono, di nuovo torno qui, spaccano tutto, rubano e a fine che ti ridono pure in faccia, ti ridono pure in faccia.